Ho iniziato a correre quando ho smesso di patinare e ho praticato patinaggio artistico a rotelle per quasi 20 anni riuscendo anche a coronare il sogno di far parte della nazionale italiana. La fatica per me è una cosa positiva perché vuol dire avere un obiettivo e avere un qualcosa per cui vale la pena far fatica. È la medaglia di New York nel momento in cui finirò la maratona, la dedico a me stessa, ai miei sacrifici e alla passione che ho per lo sport. Grazie a tutti.